A Bari prosegue AgriLevante, macchine e tecnologie per l'agricoltura in mostra fino a domenica alla Fiera del Levante. Oggi spazio ai diplomatici commerciali di ben 19 paesi esteri, ma c'è spazio anche per i più giovani, come ci spiega Renato Piccoli. Workshop per la produzione di energia da biomasse, incontri con operatori agricoli dei Balcani e della Russia, sostenibilità produttivo ambientale, ma anche come ottenere un manto erboso per gli obbisti. Ecco alcuni degli appuntamenti in programma oggi per la seconda giornata di AgriLevante, che mette in mostra macchine agricoli per gli operatori delle filiere agroalimentari. A circolare tra i 5.000 modelli portati a Bari da 280 espositori ci sono anche molti giovani. Le nuove tecnologie hanno reso più interessante per loro il lavoro nei campi. Che ci fai qui? Sono venuto a vedere un po' le innovazioni che la tecnologia offre nel settore dell'agricoltura. E per i giovani in cerca di lavoro, i produttori di macchine agricole, quest'anno hanno organizzato un apposito spazio. L'industria dei macchinari è in cerca di personale. Quindi i giovani vengono qua e cosa scoprono? Allora, i giovani vengono qua e sentono i vari componenti della filiera che gli dicono Noi abbiamo bisogno di meccanici agricoli, dei meccatronici, degli operatori dei contotersisti e ci sono notevoli posti di lavoro in Puglia e Basilicata. Nel comunicato stampa parliamo di circa 3.000 posti in Italia in tre anni e 250 posti in Puglia e Basilicata. Grazie a tutti.